Noi tutti nasciamo come angeli con due ali, però a qualcuno un'ala si rompe e cade per terra. E lì arrivano pronti gli angeli, i bossi, i city angel, a prenderlo e cercare di riportarlo nel mondo civile. Sono molte associazioni che permettono di sopravvivere a Milano. E tra queste c'è una in particolare che sono i city angels, che è una struttura ideata da Mario Burlani e che in effetti ha il nome adatto, sono gli angeli della città. L'idea di creare i city angels 21 anni fa è nata da una vocazione, credo che si possa definire così. Lavoravo come giornalista e a un certo punto mi son detto non voglio soltanto raccontare quello che vedo, voglio riuscire nel mio piccolo a cambiare la realtà intorno a me e migliorarla. Così mi sono licenziato per dare vita a un'associazione di angeli di strada, angeli di città, cioè volontari che vanno sulla strada per aiutare chi li ha bisogno. Io ho deciso di fare parte dei city angels perché avevo voglia di mettermi in gioco e di fare qualcosa che fosse utile alle persone. Ho scelto i city angels perché sono un'associazione che è molto presenza sul territorio, perché è a partitica e a religiosa. Tutti si possono trovare in un periodo difficile per cui si trovano per strada. La vita di senso detto varia da persona a persona, perché purtroppo io ho scelto di essere un uomo, ma la maggior parte delle persone sono state buttate in questa realtà. La vivono come una prigione, come una realtà che non volevano vivere. Noi sentiamo raccontare delle storie incredibili di persone che per casualità, perché hanno perso il lavoro, perché si sono fidati di un datore di lavoro malfattore, o perché sono stati cacciati di casa, o per un matrimonio finito male, oppure per un incidente. Ci sono tanti che restano travolti da un incidente e poi la vita si scioglie tra le dita senza sapere come. E sono per strada. Negli anni 90 c'erano meno senza tetto, l'economia tirava, oggi c'è più povertà e soprattutto più disperazione, c'è meno speranza. Devo dire che a Milano c'è il miglior piano di assistenza per il senza tetto d'Italia. Durante i mesi invernali a Milano se un clochard vuole andare a dormire al caldo lo può fare. Quelli che restano all'aperto sono quelli che lo fanno perché decidono così. Magari perché non vogliono andare nei centri d'accoglienza, perché non vogliono seguire le regole, oppure perché hanno paura di essere derubati durante la notte, o perché magari hanno un animale o sono in coppia e non vogliono separarsi. I motivi sono molteplici. A Milano non si muore di fame, non si muore neanche di freddo, a meno che non si voglia stare sulla strada. La cosa più bella sarebbe riuscire a trovare un lavoro per i senza tetto. Sono tanti che possono lavorare e vogliono lavorare. Nella vita quando si fa una scelta bisogna accettare anche la sconfitta e quindi mai pentirsi. Io nel 2002 ho detto che il tempo è finito di essere il mio padrone e mi sono sentito finalmente vivo. Mi piacerebbe portare i City Angels in tutte le più grandi città italiane, siamo a Milano, Roma, Torino, ma ad esempio a Napoli non ci siamo ancora, a Genova, che è una città che avrebbe bisogno, non ci siamo ancora. E trovare una persona che sappia essere un buon leader, che sia motivata, non è facile. Grazie.